Dopo gli eventi tradici di quella volta, e che morti passare in depressione, ma... Oh, fecchissimo, sono ancora vivo! E con una incredibile famiglia! Ma non siete arrabbiati perché vi abbiamo ucciso? No, no, prendete una ciambella, come simbolo di gratitudine. Teeheehee, vero, merro! Uè, brutto bagarosmo, non ti permettere proprio davanti agli altri! Prendi questo! E' questo! E' questo! Poi ti metto pure in punizione, Play 5 la rivedi fra mille! Vedi morti, con una bella sparatoria si risolve sempre tutto, sempre da ogni guaio! Visto? Ma ok ragazzi, il video è finito qua! Spero che vi sia piaciuto questo terzo episodio di Ricche Morti! Come sempre mettete mi piace e iscrivetevi! E saluto! Miriam Vitale, Francesca Farello, Francesca Di Martino, Antonio Salluzzo, sempre il mio amico perché facciamo i video! Però... E altri! Ah, e comunque volevo, volevo dirvi che con la Switch, con la Switch c'è qualche problemino! Ma non fa niente perché... Cioè, prenderò un computer, un computer da gaming con questo qua, professionale, eh! E' un portatile, però vabbè! Dove mi farò un abbonamento super speciale! E avrò tutto accesso a più di 10.000 giochi gratuitamente per 3 mesi! Wiii! Quindi... Iscrivetevi, grazie!